dottoressa avanti dottoressa permessa dottoressa dottoressa buongiorno spiegatemi una cosa le siete come si dice con la parola veterinaria e fossero meno che dei limali diciamo dottoressa è successa una cosa esagerevole un serpo ha muzzicato l'ignore mi dovete correre subito a casa un serpo ha muzzicato l'ignore correte a casa mia mamma ma io non posso salvare vostra suocera io curo gli animali dottore poi che stai a fare adesso il serpente lo serpente ha muzzicato è sminutissimo